Io sinceramente di questo video non sono rimasta sconvolta, sinceramente no, e posso dire una cosa, che la politica è anche gioia di vivere per certi versi, sono sconvolta da un'altra cosa, dal fatto che non accada nulla in Roma, a me loro potrebbero fare 10.000 ritiri, anche sorridere tra di loro e divertirsi, perché sempre sono anche giovani, però mi piacerebbe che a Roma accadesse delle cose, perché non si tratta di vedere se il governo o un governo sia uscito fuori qualcosa di serio.